Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata, nuova puntata che è sulle bugie Parleremo di nove fatti che non sappiamo probabilmente sulle bugie Punto numero uno Come ha detto Richard Wiseman, non lo capisci dagli occhi Non c'è nessun movimento veloce che è conosciuto come like body language sign Che ci permette di capire se uno sta mentendo oppure no Perché? Perché il movimento sarà troppo veloce da essere capicato dagli occhi umani se c'è questo movimento Numero due Il poligrafo non è veramente così affidabile Sebbene sia usato in molti stati come prova della verità In realtà quello che registra non è la bugia o la verità Quello che registra è la, attraverso di eletrodi, la corrente elettrica superficiale sulla pelle E quindi che cosa registra veramente? Uno stato di tensione, uno stato di ansia, palpitazioni eccetera Quindi in una certa misura è affidabile In un'altra misura se si mente come professionals, come professionisti Il poligrafo ci fa niente Ci fa un passo In certanza Punto numero tre Mentiamo soprattutto quando siamo sotto pressione C'è uno studio Punto numero quattro C'è uno studio che dice che su mille cittadini questi mentano uno, due volte ogni giorno That's a lot Mentire è una cosa che può essere molto utile Ma anche che può dare indipendenza Per esempio nei teenagers sto pensando, no? Indipendenza è un senso di autonomia Mentire ci fa sentire anche più importanti Dall'altra parte però, ti chiedo Vale veramente la pena? Considerando che I'm re-undermine Considerando che andiamo a erodere lentamente rapporti di fiducia Non lo so Anyway Eravamo a punto numero cinque Iniziamo a mentire quando abbiamo due, tre anni E punto numero sei Molte volte siamo ignari delle bugie O possiamo esserlo Delle bugie che noi diciamo Quindi ci sono dei fattori che sono più a livello inconscio Che non ci permettono di essere veramente totalmente sinceri, no? Altre volte siamo Mentiamo ma siamo coscienti Alcune volte no C'è stato uno studio Punto numero sette Che ha dimostrato come ci sia più materia grigia Nella zona prefrontale del cervello Per coloro che mentono E che mentono un foto Per diversi modi L'idea è che questa materia grigia in eccesso Ci sia lì perché Chi mente deve elaborare una storia, no? Allora deve elaborare una storia velocemente E di conseguenza mente Ma questo implica un processo creativo Bisogna argomentare Bisogna giustificare Bisogna spiegare i propri movimenti Quindi più materia grigia nella zona prefrontale Part away si dice Tra il 22 e il 26% Quindi non una quantità irrilevante Si vede più a grigia Poi c'è una medicina Una forma di medicina Che si chiama Sodium pentatel Che elimina i filtrimentali Probabilmente funziona un po' come la piccola Che si tende a parlare di più Ma non elimina la possibilità di dire bucchie E punto numero 9 Quali bucchie siamo disposti ad accettare? C'è stato uno studio che ha dimostrato Che alcune bucchie Quelle più irrilevanti Come qualche centimetro di più Qualche centimetro di meno Un chilo di più Un chilo di meno Che può andare anche a due Tre achili Non è una cosa così rilevante Anche ci sono pausa di tanto Qualche abitudine Può essere qualcosa che noi accettiamo Per esempio Anziché fumare 5 sigarette Ne fumiamo 7 E cose di questo genere Anziché uscire ogni settimana Usciamo ogni 3 settimane Ogni 4 settimane Questo può essere una cosa più accettabile Ma quali bucchie non siamo disposti a tollerare? Allora fateci far sapere Commentate qui sotto Noi ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Non dimenticatevi di Iscrivervi al canale Commentare qui sotto Lasciare un like Se questo video vi è piaciuto E attivare la campanella Per ricevere tutti i video ai miei canali Noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao